Anna Nicoletti, protagonista in gara 2, protagonista ancora di più in gara 3 col punto finale. Te lo saresti mai immaginato questo playoff fino adesso? No, non pensavo di giocare, non pensavo di giocare così quest'anno. Sono molto contenta per quello che siamo riusciti a fare oggi. Sicuramente ci abbiamo messo tutto il cuore. L'impatto con la Serie A1 femminile? No, è stata un'esperienza bellissima, i miei compagni mi aiutano sempre un sacco. E adesso dove può arrivare questo Conegliano? Si diceva che forse la sfida più complicata su un percorso verso la finale era questa. Sì, sicuramente sono state delle partite bellissime, piene tutte di emozioni. Adesso andiamo a Cremona carichissime. Ti ha lasciato il Club Italia, come esperienza di vita? Ma sicuramente il dare il massimo su ogni pallone. Grazie. 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 Grazie.